Insieme al dottor Antonio Ardizzoia, direttore del Dipartimento di Oncologia dell'Ospedale di Lecco, parliamo di tumori ma ne parliamo perché ci sono importanti novità. Dottor Ardizzoia, buonasera, ben trovato nei nostri studi. Lei è reduce dal congresso di Chicago, il congresso più importante per quanto riguarda lo studio dei tumori, le novità, le nuove frontiere. Sì, è il congresso chiamato ASCO della Società di Oncologia Medica Americana, è il congresso dove si ritrovano tutti gli oncologi almeno una volta all'anno per discutere di quelli che sono stati progressi nell'anno precedente ma soprattutto quelle novità che cambieranno gli approcci terapeutici nel trattamento dei tumori nell'anno successivo. Che cosa è emerso? Ma due grossi filoni, uno la conferma dell'efficacia di alcuni trattamenti e poi ne parliamo e poi soprattutto un filone molto importante per molti forse inaspettato o meglio, difficilmente dimostrabile come importanza che è quello della corretta cura del malato. Mi spiego meglio, per anni noi abbiamo sempre sostenuto che gestire bene la malata volesse dire gestire meglio una persona, darle delle chance in più, offrirle una cura migliore. Con due studi questa nostra convinzione si è affermata ed è stato dimostrato che poter gestire bene un ammalato può portare a un aumento delle aspettative di vita. Uno degli studi più grossi che ha dato anche molte risonanze internazionali è stato il fatto che ad esempio una dieta seguita correttamente, l'attività sportiva fatta dopo una chimioterapia in un paziente che ha dato un tumore intestino aumenta l'aspettativa di vita di questi pazienti riducendo dell'8% la mortalità, un numero altissimo a volte difficilmente raggiungibile con i trattamenti. Il secondo studio invece è uno studio che ha dimostrato che gestire in maniera appropriata il paziente a domicilio dopo che è stata fatta una chimioterapia aumenta addirittura l'aspettativa di vita di 5 mesi. Per noi 5 mesi potrebbero sembrare pochi ma sono un numero ben più alto di tantissimi altri trattamenti che noi abbiamo a disposizione. Quindi la gestione a casa, il paziente deve stare fra le mura domestiche pur avendo un'assistenza sanitaria di primo livello? Assolutamente sì. Da anni stiamo sostenendo che il paziente deve e può tornare alla propria vita normale anche durante un percorso di trattamenti antitumorali. Il fatto che uno deve essere gestito nella maniera più semplice se vogliamo possibile più riferibile alla vita quotidiana normale ma deve comunque essere ben monitorato e controllato perché gestire eventuali complicanze, eventuali tossicità vuol dire ridurre alcuni rischi che potrebbero essere a volte anche importanti. Torniamo invece ai nuovi farmaci. Risultati importanti su questo fronte, soprattutto per quale tipo di tumori? Grosse novità per farmaci che ormai in questi anni si stanno consolidando sempre più. Sono i farmaci biologici, i farmaci target, i cosiddetti farmaci intelligenti e negli ultimi anni l'immunoterapia che davvero sta modificando la cura di questi pazienti, di questi tumori. Gente che prima aveva aspettative di vita di pochi mesi e adesso diventano davvero di anni. Se ne è parlato soprattutto nel tumore della mammella, nel tumore del polmone, nel tumore della prostata, nel tumore del colon, quindi anche grosse patologie, grossi numeri e dati importanti per tante persone. Lei ha partecipato a questo importante convegno, ma bisogna dire che l'ospedale di Lecco è in prima linea sul fronte della sperimentazione, proprio su questi nuovi farmaci peraltro. Sì, una cosa che ha fatto molto piacere personalmente a me, ma credo a tutto il nostro centro, è che in almeno in 6-7 di questi grossi studi, e parliamo di studi mondiali, in cui sono arruolati centinaia, se non a volte migliaia di pazienti, ecco, anche Lecco ha fatto la sua parte perché in 6-7 studi presentati quest'anno erano stati arruolati anche pazienti di Lecco. Dico questo soprattutto per i pazienti che hanno partecipato a questi studi, perché a volte partecipare ai studi clinici è qualcosa davvero di molto importante per il paziente stesso, ma poi per i risultati che vengono proposti. E solo facendo una collaborazione, che non è più solo a livello locale o nazionale, ma direttore internazionale, si possono ottenere questi risultati. Quali sono le nuove frontiere? Perché questo congresso è un punto d'incontro, lei lo ha detto, per fare appunto il punto, un bilancio dell'anno precedente, ma soprattutto per guardare al futuro. Beh, il futuro è sicuramente molto più eroso rispetto a qualche anno fa. Le nuove frontiere sono legate appunto all'utilizzo di questi nuovi farmaci, farmaci che usati sempre più precocemente possono far sì che la gente sopravviva molti anni di più. Stiamo davvero arrivando sempre più a cronicizzare alcune patologie. E la possibilità di utilizzare questi trattamenti anche in pazienti non più giovanissimi o che hanno altre copatologie dove forse una chemioterapia tradizionale potrebbe essere meno indicata. Ecco, questi farmaci offrono dei risultati sicuramente più eclatanti. E questo è dimostrato dal fatto che ormai i tassi di sopravvivenza a lungo termine stanno davvero migliorando tantissimo. Ecco, quindi si può dire che non è aumentata l'incidenza dei tumori, ma il fatto che precocemente si riesce ad individuarli. Ma probabilmente sì. Allora, l'incidenza in senso lato sicuramente è aumentata, forse legata anche alla diagnosi precoce. Il dato principale è che però i tassi di mortalità si stanno riducendo progressivamente, ma soprattutto i tassi di sopravvivenza stanno aumentando ancora di più. Questo ovviamente è un dato positivo, è un dato, se vogliamo, di criticità legato al fatto che ovviamente le persone in cura, le persone che convivono con un tumore, sono sempre di più, ma possiamo vederlo sicuramente come un dato positivo. Sicuramente lo è. Grazie, dottora Dizzoglia, per la sua presenza in studio. E io restituisco la linea. Buonasera.